Nel fine settimana appena trascorso si è svolta l'assemblea ordinaria ed elettiva del Comitato Regionale Siciliano PGS. Nell'auditorium Don Bosco dell'Istituto Salesiano San Francesco di Sales di Catania, che ha radunato tutti i delegati provenienti dai diversi comitati siciliani, nel pomeriggio del 25 marzo la prima parte dell'incontro è stata dedicata al seminario formativo sul tema Passione e responsabilità per lo sport giovanile, con gli interventi del presidente regionale del CONI Sicilia Sergio D'Antoni, della referente nazionale FMA Francesca Barbanera, dell'incaricato nazionale degli oratori salesiani Giovanni D'Andrea. A seguire la relazione del presidente regionale PGS Maurizio Siragusa sulle attività e sull'organizzazione del Comitato Siciliano relativo al 2016. Fra i diversi ospiti intervenuti è anche l'assessore regionale allo sport Anthony Barbagallo, l'ispettore dei salesiani Don Pippo Ruta, la segretaria ispettoriale Lucia Siragusa, i presidenti regionali delle diverse federazioni sportive, buonaccorsi per la FIBS, Parisi della Fin e la Delfa delle FMSI, del delegato provinciale del CONI Catania Enzo Falzone, del presidente del CUS Catania Luca Di Mauro e del vicepresidente della Lega Nazionale dilettanti FIGC Sandro Morgana. Domenica mattina l'assemblea elettiva ha consegnato alle PGS siciliane il nuovo direttivo per il quadriennio 2017-2020. Succede a Maurizio Siragusa dopo tre mandati Massimo Motta, già presidente del Comitato Provinciale Etneo, eletto a voto segreto ma all'unanimità dei votanti. Il consiglio regionale con molti volti nuovi sarà composto da Dario Conti, vicepresidente, Sergio Caripoli, segretario, Antonino Gennaro, direttore tecnico e da Ivan Zinna, Antoni Ferro, Massimo Labella. I revisori dei conti saranno Matteo Marino, Santino Rinaldi, Concetto Di Rosa e Carmelo Caggeggi. Al Consiglio Nazionale la Sicilia sarà rappresentata da Sergio Ragusa e Maurizio Siragusa. L'assemblea è stata molto partecipata, sono state accreditate ben 137 società con una presenza di circa 100 delegati e dirigenti dai vari livelli, come detto provenienti dall'intera regione. Grande soddisfazione per il Comitato PGS di Trapani che ha visto l'elezione del mazzarese Antoni Ferro da anni impegnato nel sociale e nello sport con particolare riguardo alle nuove leve maschili e femminili del movimento pallavolistico mazzarese.